Ma che culo abbiamo avuto, che culo abbiamo avuto, è finita adesso la partita ragazzi, 2 a 1 per noi, ennesimo 2 a 1, ma salvo solo il risultato, partita immeritata, immeritata. Per fortuna la spalla ci ha graziato 3-4 volte, salvo i gol dei Cardi, gli sono arrivati 2 palloni, 2 gol ha fatto, Versalico, a parte l'assist, ha fatto più danni che altro, lo stesso Miranda, Skrini ha con la testa tra le nuvole, Asamoah ha fatto forse la peggior partita da quando è all'Inter. Vesino fa sempre le sue partite da 5 e mezzo 6, Nainggolan il solito, quindi lui la sufficienza se la prende sempre, Perisic cane morto, Keita insufficiente, continua a non trovare il gol davanti la porta, ma santo Dio, santo Dio, come cazzo si fa? Non si sa. Bene, bene Politano, Gaiardini e Lautaro che sono entrati col ghigno giusto, il resto non c'è niente da dire, veramente partita orribile, orribile. Per una volta la fortuna ha girato dalla nostra parte, perché veramente bene Borca, che comunque fa sempre girare quel centrocampo, anche se 2-3 palloni l'ha persi pure lui. Ma oggi non eravamo proprio in partita, ma poi su queste sono proprio partitacce, incampacci. A me sta sul cazzo che queste piccole non hanno paura di noi. Mi sta letteralmente sul cazzo, anche perché ieri ho visto l'Udinese Juve, cioè l'hanno surclassati. Surclassati, ogni volta che la Juve gioca contro le piccole, le piccole hanno paura. Perché contro di noi non hanno paura? È questa la mentalità che dobbiamo cambiare. Va bene ragazzi, video breve, stanco, sudato. Ho finito pure le madonne, quindi per oggi va bene così, portiamoci a casa solo sti tre punti. E ci vediamo alla prossima. Sempre sempre. Forza Inter, ciao.